Sono andata a New York a presentare qualche cosa che secondo me descrive molto bene il nostro paese, il nostro contributo alla crescita e allo sviluppo e che è un'icona straordinaria che avevo già richiamato l'anno scorso anche all'avvio dei vostri lavori. Leonardo. Leonardo sicuramente è l'icona perfetta per descrivere la contaminazione culturale, per descrivere il genio italiano, per descrivere l'incontro tra chi arriva da fuori e chi sa accogliere al meglio e rispettare la portata innovativa di quello che arriva da fuori e secondo me è straordinariamente ancora oggi un esempio di come la cultura che nasce da questa contaminazione è sviluppo economico. Quindi è assolutamente un'icona adeguata per descrivere la voglia di crescita che questo paese ha e che io vi ho seguito in realtà in questi due giorni a distanza tramite le mie ragazze, la Marianna che vedo seduta lì, mi hanno informata di quello che stava succedendo e devo dire che voi avete colto nel segno di quella che è un'esigenza, una domanda fortissima, forse ancora inespressa nel nostro paese. Il nostro paese cresce sempre. Purtroppo lo diciamo poco, ma dobbiamo sforzarci di andare a svelare e a porgere agli occhi di tutti questa volontà di crescita. Quindi voi avete sicuramente intercettato al meglio questa domanda e la testimonianza del successo del vostro evento lo dimostra. Lo dimostra anche con lo strumento che avete scelto, che è quello del Rocio. Perché? Perché avete saputo vedere nel nostro paese quali sono le differenze che vanno messe a fattor comune per generare la crescita. Questo è fare sistema. È quella cosa di cui troppo spesso all'estero ci sentiamo accusati di non essere in grado di fare. E invece è proprio questo che noi dobbiamo sforzarci, istituzioni, centri culturali, fondazioni come siamo noi, organismi che mettono insieme questi aspetti come siete voi. Noi dobbiamo sforzarci, dicevo, per portarlo agli occhi di tutti. E allora è bellissimo creare un network di città che possa essere un asset di questo sviluppo e che possa tradurre sul piano concreto quello che ci diciamo in queste giornate di incontro importantissime. Quindi sicuramente avete un'intuizione in cui io mi ritrovo pienamente. il network delle città con le loro differenze portate nel sistema paese generano sicuramente degli elementi di crescita. Un po' come abbiamo voluto fare noi con il nostro hub Leonardo che abbiamo voluto portare a New York ma non solo. L'abbiamo portato anche a Pechino già e lo abbiamo portato, lo porteremo probabilmente in Corea. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché quando abbiamo costruito nel chiostro l'hub Leonardo, il grande genio è stato rivisitato con gli occhi di oggi perché noi amiamo il Leonardo visto da noi, diciamo così, dal nostro punto di vista. Siamo un po' egocentrici ma questo è sicuramente uno sforzo invece positivo. Allora, quando gli occhi del mondo, cioè di tutti gli spettatori che sono arrivati da fuori hanno visto questa interpretazione, l'hanno apprezzata e ce l'hanno richiesta all'estero. Ed ecco perché ha senso lavorare su un network di città per diffondere non solo la nostra cultura ma la nostra essenza, la nostra voglia di crescita. Perché in realtà è questo che siamo andati a fare.